La meschinità e il rancore non merita, che sono fonte di odio, mentre Silvio era un uomo generoso, buono, giusto e soprattutto aveva dentro tanto amore. Quindi ho voluto citare tanti che ha detto soltanto non ragioniamo di loro ma guardiamo di essi. Grazie a tutti. Questo passaggio amato e criticato fa parte delle polemiche anche. Il milanese ci dice lasciabui, lasciabui, tradurete voi. Cosa direbbe Silvio di oggi? No dai, abbiamo detto basta. Grazie. 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 Grazie a tutti.